Sette fiocchi azzurri e due rosa in poco più di 24 ore. Un vero e proprio boom di nascite, quello fatto registrare all'ospedale Santa Maria alla Gruccia in Val D'Arno. Un lieto evento festeggiato lo scorso 9 settembre da tutto il personale sanitario dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia diretta dal dottor Filippo Franca Lanci. Otto neonati sono venuti alla luce con parto spontaneo di cui due in vasca nativa e un parto cesareo è stato eseguito in emergenza per alcune complicanze. Proprio a questo ultimo parto fanno riferimento i ringraziamenti del dottor Franca Lanci nei confronti dei colleghi e delle colleghe del pronto soccorso e alla rianimazione dell'ospedale che hanno consentito alla piccola di nascere in sicurezza e che si sono presi cura in ambito rianimatorio della madre. Un lavoro di squadra, sottolinea ancora Franca Lanci, che mette in risalto le professionalità del nostro presidio in grado di assistere gravidanze con efficacia ed efficienza anche in situazioni molto complesse. Madre e figlia stanno bene e siamo felici di vedere il nostro reparto alietato dalla gioia di così tante nascite in un solo giorno.